Buongiorno Piano 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 Questa è lavorante Vai, aspetta meglio i piedi Ma la cioccolata Guarda che sta E' pure l'appoggio Guarda, e' pure l'appoggio Ok, ok Vai, vai ultri, basta Lascia le mani Vieni fuori col piede Il piede Non con le mani Ok, brava No L'ultima presa di Mar Allora, prendi il piede su quella presa lì Dove è il piede sinistra Mettete il piede sinistra Brava, epice